Quasi 4100 contagi, 421 decessi e 731 pazienti guariti da quando è cominciata l'emergenza. È il bilancio sino a questo momento relativo alla diffusione dell'epidemia di coronavirus nel territorio pugliese. I dati aggiornati sono stati comunicati come di consueto dalla regione tenendo conto dei nuovi malati registrati giorno per giorno sul territorio. 27 quelli segnalati nell'ultimo bollettino che fanno salire così a 4099 il totale dei positivi al virus. Il numero più alto di casi lo conta sempre la provincia di Bari con oltre 1300 infetti seguita da quella di Foggia a 1050. Restano questi i due territori pugliesi più colpiti dalla pandemia per malati e per vittime. Al terzo posto della ben poco felice classifica la provincia di Brindisi con 577 casi, poi Lecce 489 e la BAT dove sono saliti a 374 i contagi. Infine il territorio di Taranto che ha superato i 260 malati. Sempre più drammatico il bilancio dei morti con altre sei vittime nelle ultime 24 ore per cause legate al virus, tre in provincia di Bari e tre in quella di Foggia. I decessi sono complessivamente 421. Di contro fa ben sperare il dato riferito ai guariti. 731 malati sino a questo momento sono riusciti a vincere la lotta contro il covid-19, addirittura 39 solo nell'ultimo giorno. Altrettanto buone le notizie che arrivano dalle strutture della rete sanitaria pugliese dedicata all'emergenza. Continuano a diminuire infatti i pazienti in ospedale. Delle 2947 persone attualmente positive. 428 sono ricoverate con sintomi e solo 39 nei reparti di terapia intensiva. Numeri che accendono una piccola luce in fondo al tunnel ad ormai meno di 48 ore dall'inizio della fase 2 che dovrebbe segnare una prima ripartenza dopo due mesi di blocco totale. Ma nessun liberi tutti, non bisogna abbassare la guardia. Lo ha ribadito attraverso un video pubblicato sulla sua pagina facebook anche il presidente della regione Michele Emiliano raccomandando ai cittadini pugliesi l'utilizzo dei dispositivi di protezione. È importante indossare sempre guanti e mascherine ma non solo. Anche e soprattutto nelle prossime settimane bisognerà evitare gli assembramenti, mantenere la distanza e restare a casa il più possibile. Abbiamo un rischio epidemiologico che dobbiamo gestire in un equilibrio tra aperture e chiusure della nostra società, ha ricordato il governatore. Siamo pronti a stringere nuovamente le aperture se i dati sull'epidemia dovessero provocarci problemi.